Eccoci qua, siamo a Riva Ligure insieme a Luigi Cabrera, il presidente della Tour in Marathon. Dal lungomare qua partirà la prima edizione del Tutta Dritta Sanremo. Quanti sono i partecipanti? Ieri erano 500, oggi quali sono i numeri? Il doppio. Il doppio. Il doppio, quindi vediamo quanti arriveranno, comunque ce ne sono il doppio. Sono circa 1000, adesso stavano chiudendo, è arrivata una signora che dice voleva iscriversi adesso, quindi insomma non accettiamo iscrizioni ma ovviamente consentiamo a tutti di correre e sicuramente correranno più di 1000 persone. Questo evento è nato con la collaborazione con Area 24, siete contenti di questa collaborazione? Siete contenti di come sta riuscendo questo evento? Cosa ne pensate anche di Sanremo? Io intanto vorrei fare i complimenti per quello che sta facendo Area 24 e quindi per questo grande progetto della regione Liguria che va a trasformare la ferrovia e farla diventare una pista ciclabile, pedonale, quindi un'opera mondiale, un'opera di livello mondiale. Ci sono degli scorci di una bellezza commovente, quindi per uno che anticamente ha una famiglia che arriva dalla Liguria, tornare e vedere queste cose è una cosa veramente commovente e spettacolare. Perfetto, ringraziamo il presidente di Tour in Marathon e aspettiamo la partenza che sarà alle 6. Eccoci qua insieme a Giuseppe Argirò, presidente di Area 24. Allora, più di 1000 iscritti per questa prima edizione di Tutta Drita Sanremo, siete soddisfatti? Cosa ne pensate? Direi che siamo andati al di sopra delle aspettative, siamo molto molto contenti, è un grande successo, una grande festa dello sport, una grande festa della nostra pista ciclabile. È un'occasione per promuoverla e per farla vivere a chi già la conosce attraverso una gara, un evento competitivo su cui tutti si possono cimentare, ma anche chi non ha voglia di fare una grande corsa può fare una bellissima passeggiata e quindi veramente una gara aperta a tutti. Certo. Siete contenti di questa collaborazione con Tour in Marathon? Siete soddisfatti e si ripeteranno altre edizioni? La logica di Tour in Marathon come scelta di partner tecnico è motivata da due cose. Uno, dalla loro grande professionalità rispetto all'organizzazione di grandi eventi sportivi e la seconda è perché essendo un'organizzazione di Torino, del nord-ovest e leader in quella zona è per noi un veicolo anche straordinario di promozione turistica, di promozione del parco costiero e quindi di promozione di questa pista ciclabile che è così bella e che dobbiamo far sempre più conoscere in giro i nostri turisti per portarli in riviera. È una grande occasione ulteriore che si deve aggiungere per rafforzare il nostro modello di offerta turistica. Ultima domanda, corre anche lei per questa corsa? È al pettorale numero uno, è contento? Il pettorale numero uno me lo hanno dato immeritatamente ma evidentemente solo perché sono quello che ha avuto l'idea di fare la corsa. Sono molto contento, ho l'obiettivo di arrivare almeno fino alla fine, poi vedremo i tempi però devo dire che non ho avuto veramente nessun modo di allenarmi perché Are24 è una società molto impegnativa e quindi correrò senza allenamento, quindi sicuramente spero siate tutti clementi rispetto al mio risultato. Ringraziamo Giuseppe Argirò, presidente di Area24. Come facciamo noi? Si aspetta fino a quando arriva l'ultimo e si fa festa tutta la sera. Buon divertimento a tutti, tutta dritta saremo, prima edizione, pronti, via! Buon divertimento a tutti, tutta dritta! Grandi, sarete tantissimo! Tanti insumi, eravate siete tantissumi! Grandi, grandi, camminatori, collegatori, donne, uomini, bambini sono sicuro che ci sarà anche qualche canale. Quanti passaggi, qualche bambino... un divertimento ci si vede a San Diego No, lo studiamo? 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 No, lo studiamo?